Io alzo lo sguardo sul tema della migrazione, dei rifugiati, dei migranti perché penso che sia necessario alzare lo sguardo da quello che è il punto di vista dominante su questo tema. E quindi il mio lavoro, il documentario che portiamo qui al Festival dei Diritti Umani prova ad alzare lo sguardo, a provare a capire se questo cambiamento che sta arrivando può essere in qualche modo un'opportunità e non soltanto frutto di tragedie, di drammi, dei drammi che comunque siamo abituati a raccontare e a sentire che ci vengano raccontati. Ecco, quindi il mio documentario prova ad alzare lo sguardo su questo tema e quindi a vedere che insomma ci sono, quando c'è appunto una bella frase nel documentario che è un proverbio cinese che dice quando soffia il vento del cambiamento c'è chi costruisce muri e chi mulini a vento. Proviamo a vedere insomma ad alzando lo sguardo se riusciamo a intravedere qualche mulino a vento.